Dopo l'effetto cascata che sistematicamente si crea ad ogni pioggia lungo la colonna portante del centro direzionale Benelli, sembrano cominciare a sgretolarsi anche le travi in legno portanti del vecchio complesso edilizio compreso fra via Mameli e via Delmonico. Cedimenti causati dagli accumuli di acqua piovana che faticano a defluire e che hanno portato ieri i vigili del fuoco a monitorare la situazione su indicazione degli stessi amministratori di condominio. Il risultato è stato il transenamento dell'intero piazzale centrale del centro direzionale Benelli per motivi di sicurezza. Il complesso edilizio ha ormai mezzo secolo di vita e una quindicina d'anni fa fu sottoposta ad una riqualificazione che ora necessita di un nuovo intervento per quanto riguarda la manutenzione della tettoia che spetta al comune. Questa mattina il sindaco Biancani, assieme all'assessora con delega alle manutenzioni Mila della Dora, ha fatto un sopralluogo con alcuni tecnici e con le amministratrici del condominio Marica e Patrizia Vagnini. È stata portata sul posto una piattaforma con la quale un ingegnere specializzato ha potuto constatare da vicino lo stato attuale di una delle quattro travi che ha ricevuto un eccedimento parziale. Il piazzale dunque rimarrà transennato e chiuso al transito fino alla messa in sicurezza. Contestualmente è stata anche chiamata una ditta specializzata nei lavori in quota per svolgere la pulizia delle tubazioni necessarie alla raccolta delle acque che nel caso del centro Benelli si depositano proprio all'interno del pilastro blu centrale, ora completamente struito. Emerge chiaramente che c'è un cedimento di una trave, abbiamo fatto il sopralluogo insieme all'assessore Mila della Dora, insieme ai tecnici del comune, adesso oggi contatteremo qualche tecnico specializzato ovviamente perché stiamo parlando di una struttura di legno lamellare. L'altra cosa che emerge è che comunque è necessario fare quanto prima una linea vita per consentire alle persone di poter andare a pulire in alto perché come tutti hanno un potuto modo di vedere quando piove praticamente c'è una cascata che viene giù dal tetto. Quindi la prima cosa è riuscire a pulire, far sì che l'acqua possa defluire dove in qualche modo deve andare, ma dall'altra parte faremo tutte le verifiche per riuscire a mettere in sicurezza questa piazza. Mi auguro che le spese non siano eccessive perché qualora siano necessarie risorse ingenti non sarà semplice riuscire a recuperarle.